La sceneggiatura mi piace tutta, è una sceneggiatura costruita lentamente, ben cucita sui personaggi e quindi diciamo che non ci sono state delle scene, delle parti in cui si è fatta difficoltà ad adattarsi al ruolo, poi chiaramente ci sono delle scene più intense per cui ci è voluto chiaramente un impegno maggiore rispetto ad altre più lisce, meno complicate, semplicemente è entrato nel ruolo e fatto così come bere un bicchier d'acqua diciamo, non si può prescindere da una parte della sceneggiatura per arrivare a un'altra parte perché è un crescendo questa storia, è una cosa e conseguenza dell'altra nei fatti quindi non ci sono delle parti che non mi sono piaciute. Alessandro, chi è il tuo personaggio e come hai vissuto la trasformazione, io definirei da figlio assistito a quasi genitore in pratica perché poi nell'evoluzione del personaggio il personaggio cambia, matura e entra in un'ottica completamente diversa, dal vivere con la madre a 50 anni a diventare invece responsabile per Francesca e il suo figlio. Diciamo che la chiave è sicuramente l'amore, il film inizia con un personaggio che a 50 anni compiuti si trova in una situazione in cui probabilmente non ha realizzato molto anche dal punto di vista artistico, non ha avuto molta fortuna nella vita e proprio all'inizio lui addirittura che vede sciogliosi quel gruppo musicale con quale comunque si garantiva sia attività artistica che anche vita sociale no in qualche modo pur essendo un una persona sola conosce francesca abbiamo già detto che una persona impulsiva quindi lo conosciamo in un certo modo dal momento in cui conosce francesca abbiamo un cambiamento e questo cambiamento si vede si sente il personaggio ritorna a sperare quindi non c'è evidentemente un momento in cui la vita declina punto in qualsiasi momento della nostra vita ci può capitare quell'evento che poi ci riporta su ci fa sognare ci va lui si innamora di francesca ma anche della possibilità di riscattarsi e questo è quello che mi ha anche fatto innamorare del personaggio io non vedevo l'ora di iniziare le scene questo lo dico sempre iniziare le scene con con lei proprio no anche sul set con francesca che mi sentivo più più dentro il film sentivo già dentro il film e poi per il resto comunque sono sono d'accordo con le le scene ogni scena racconta la successiva fino alla fine del film quindi le abbiamo davvero vissute tutte con grande intensità si si questo si percepisce tu sei portamera fissa come? tu sei venuto a stringere? no sono due avete un aneddoto questo è per tutti e due divertente da raccontare qualcosa di visto che si è parlato del clima festoso anche sul set comunque festoso nel senso di quindi coeso e piacevole mi chiedevo se ci fosse un qualche aneddoto che vi ricordate divertente ma un aneddoto io devo dire che non non ce l'ho diciamo una cosa che mi ha fatto un po' specie poi col senno di poi è stato che durante una scena molto forte in cui il mio personaggio si trova a casa dei genitori e nasce questo questa questa rissa tremenda questo bisticcio io recitavo con un'attrice molto nota Anna Ferruzzo però che in quel momento era mia madre eravamo noi una famiglia che viveva quella situazione quindi ci siamo quasi picchiate devo dire a un certo punto le ho fatto saltare un orecchino le ho fatto uscire il sangue dall'orecchio e questo sul momento io l'ho vissuto in maniera molto normale perché effettivamente la vivevamo proprio quella quella situazione però poi proprio col senno di poi ci pensavo dicevo oddio ho messo le mani addosso a una grande attrice e questo mi ha fatto un po' sorridere poi comunque devo dire che la tensione anche la velocità con cui abbiamo girato tutte le scene si è conclusa tutto tutto il film non mi ha permesso di vivere momenti in cui ho pensato molto ho ragionato molto è stato proprio un tuffo rapidissimo dall'inizio alla fine quindi poi a caldo più che altro poi dopo ragionando ecco si sono venute fuori cose belle cose brutte momenti di relax di panico di tensione momenti in cui realizzi che hai lavorato con gente che è diventata famiglia quasi insomma una bella esperienza anche io non ho non ho in mente in questo momento un aneddoto preciso ricordo però i rituali cioè si arrivava arrivavo sul set facevo il giro di tutta la troupe andavo a trovare tutti andavo a ridere andavo a sorridere a salutare a prendere il caffè a scambiare due chiacchiere con tutti proprio con tutti il clima era proprio quello che abbiamo avuto modo di sentire prima in conferenza stampa il clima era veramente fantastico positivo poi c'era un momento in cui passavo al trucco passavo al costume e una volta entrato nelle vesti del personaggio allora lì mi piaceva girare allontanarmi trovare l'isolamento trovare la concentrazione ripetermi la pace e lì c'era proprio assolutamente l'astrazione da tutto ciò che poteva essere divertimento o rilassamento e lì si entrava da quel momento si entrava quindi incontri con il regista le ultime prove e poi via voi avete già lavorato con Bonifacio tutti e due come è il lavoro cioè come dirige gli attori sul set? allora come dirige gli attori Bonifacio per quanto mi riguarda anche se la nostra conoscenza perché il mio compagno di vita è molto profonda e quindi magari a volte la confidenza che si ha gioca lo scherzo di far mancare la fiducia perché puoi mettere in discussione il lavoro di una persona che conosci molto bene però per quanto mi riguarda l'ho sempre visto dall'inizio della sua carriera come una persona che sa fare proprio le magie sul set perché credo che sia un bravo regista sotto ogni aspetto ma sa fare quella magia di non farti sbagliare a parte il grosso lavoro precedente con prove che sono servite chiaramente tantissimo però proprio sul set se succede qualche imprevisto qualche complicazione c'è quella magia che lui sa compiere che quindi ti permette di non preoccuparti perché sai che comunque tutto sicuramente andrà bene in qualche modo e quindi a livello lavorativo la fiducia e il non mettere mai in discussione ciò che sta per accadere come può essere andata una scena perché se lui dice ok vuol dire che quella scena andrà bene poi nel montato sì io penso un po' l'ha detto anche Francesca penso che sia uno dei suoi punti di forza la gestione il rapporto con gli attori il guidare gli attori tant'è vero che lui è molto bravo con tutti gli attori anche con chi magari non ha esperienza sul set lui riesce veramente a trasformare le emozioni no perché poi di emozioni si tratta e quindi a rendere anche anche gli altri no sul set anche gli attori anche le comparse credibili proprio perché fa un lavoro grande sulle emozioni poi c'è il testo però lui parte dalle emozioni e dalla descrizione della scena è bravissimo e poi comunque è in grado di mettere tutti d'accordo non solo gli attori tutta la troupe ha lavorato con grande serenità e questo è importante suppongo sì